Marinella di Sant'Erenzo scatta al divieto di balneazione, analisi su batteri fecali di quattro volte oltre il limite. Paglio del Golfo, gran finale in Piazza Europa per le premiazioni, il Calimare vince tra le borgate per la sfilata. Evagioni fiscali e sprechi di denaro pubblico, giro di vite in Val di Magra, la guardia di finanza di Sarzana elevata al rango di compagnia. Furti in casa d'estate, nell'ultimo anno sono diminuiti grazie ai sistemi di allarme, ma occhio al fai da te. Spezia Calcio, quattro volti nuovi a disposizione di Mister Di Carlo, sono Mastino, Galli, Piu e Pagnini. Buonasera e benvenuti all'appuntamento quotidiano con le notizie del TLS giornale. Come abbiamo sentito dai titoli, divieto di balneazione alla Marinella di Sant'Erenzo nel comune di Lerici. Le analisi effettuate periodicamente da ARPAL hanno rilevato una concentrazione di escherichia coli oltre quattro volte il consentito. La zona è inaccessibile a causa di una frana che minaccia l'area balneare. Le cause di questi dati allarmanti, conferma la dottoressa Fabrizia Colonna di ARPAL, sono in corso di accertamento. Intanto il comune di Lerici ha emesso un divieto temporaneo di balneazione in questa località in attesa di successive analisi. Gran finale del Palio del Golfo con la cerimonia di premiazione ieri sera in Piazza Europa. Oltre alla consegna dei premi agli equipaggi è stato svelato il podio della sfilata. Al terzo posto si classifica la borgata di Sant'Erenzo, al secondo gradino il Canaletto e la vittoria va al Cadimare. Con il suo albero della vita, un tema che rimandava la canzone, ci vuole un fiore. Ma vediamo il servizio per noi di Laura Ivani. Primo classificato Cadimare. Il Cadimare vince la sfilata 2016. Dopo la storica vittoria nel Palio Femminile, il Cadimare si prende anche la sfilata delle Borgate. Con il corteo coreografico ispirato dalla celebre canzone di Sergio Indrigo, Ci vuole un fiore, i cadamotti hanno convinto la giuria del Palio, composta dai rappresentanti delle 13 Borgate. Un buato di gioia ha accolto la lettura del verdetto dal palco di Piazza Europa, tornato ad essere il luogo deputato per le premiazioni ufficiali e per darsi l'appuntamento alla prossima stagione remiera. Il Cadimare si prende il gradino più alto del podio, ma al secondo posto a pochi punti il Canaletto, che ha presentato una sfilata tutta legata al giallo, colore della borgata, dai Minions a SpongeBob, attraverso un giallo appunto legato al mondo del Palio, che solo Sherlock Holmes poteva svelare. Sul gradino più basso del podio i bianco-verde del San Terenzo, che hanno portato per le strade della città circa 160 figuranti e un immenso cuore che pulsa per la propria borgata. Sul palco di Piazza Europa poi anche le prime azioni ufficiali per il Palio Sportivo, con gli junior del Porto Venere, le donne del Cadimare e i senior del Marola che sono arrivati a bordo di un pick-up di colore arancio-granata dopo un carosello di festeggiamento per le vie della città. E come sempre la consegna dell'ambito trofeo è un tuffo al cuore per i protagonisti e una grande festa che illumina la piazza. Il sipario cala, dopo le agognate vacanze si aprirà il palio mercato e poi i gozzi colorati torneranno a solcare le acque del golfo per prepararsi per la prossima disfida. L'appuntamento adesso è alla prima domenica di agosto del prossimo anno per il 92esimo palio del golfo. Buone notizie per i cittadini liguri che hanno subito danni dalle alluvioni del 2013, 2014 e 2015. Sono in arrivo nuovi fondi per risarcire i danni subiti proprio dai privati. Li ha deliberati il Consiglio dei Ministri. Soddisfazione espressa dalla Regione Liguria. Per noi, Laura Ivani. 400.000 euro per aiutare i cittadini liguri per i danni subiti nel corso delle alluvioni verificate da maggio 2013. Via libera da parte del Consiglio dei Ministri all'assegnazione di contributi ai privati che abbiano subito danni e situazioni di emergenza negli eventi alluvionali degli scorsi anni. Una notizia accolta con soddisfazione da parte della Regione Liguria che attraverso l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone afferma che l'ente regionale si è battuto in tutte le sedi istituzionali per fare in modo che venisse riconosciuto dal Governo il diritto dei cittadini duramente colpiti dagli eventi alluvionali di vedere risarciti almeno in parte i propri beni. Oggi è sicuramente un bel giorno per la Liguria ha detto Gian Pedrone che tanto ha patito e sofferto per i disastri alluvionali degli anni passati anche con il sacrificio di vite umane. La delibera del Consiglio dei Ministri consentirà ai cittadini colpiti da calamità di beneficiare di un contributo statale per i danni provocati dalle situazioni di emergenza che si sono verificate a partire dal maggio 2013. In Liguria si tratta delle quattro alluvioni che hanno colpito il territorio tra dicembre 2013 e gennaio 2014 nell'ottobre 2014, nel novembre 2014 e a settembre 2015. Oggi è possibile dare una risposta concreta e adeguata a privati e aziende danneggiate e soprattutto, aggiunge Gian Pedrone, porre rimedio a una disparità di trattamento inaccettabile. L'assessore regionale fa riferimento ai danni subiti da Genova nell'ottobre 2014. 20 milioni di euro di danni per i privati cittadini a fronte di uno stanziamento del governo da 5 milioni. Per i cittadini danneggiati appena un mese dopo, nel novembre 2014, aggiunge Gian Pedrone, non era stato stanziato fino ad oggi nemmeno un euro. Nei prossimi mesi, conclude, la regione Liguria si attiverà per avviare le procedure necessarie all'apertura dei bandi per l'assegnazione dei contributi a privati e aziende che a tempo debito ne abbiano fatto richiesta. Bolkestein, l'incontro di ieri a Diano con i comuni costieri savonesi e imperiesi dopo quello con i comuni genovesi e spezzini è stato fondamentale. È importante confrontarci con il territorio per concordare i percorsi da portare avanti per tutelare le aziende balneari Liguri dalla direttiva Bolkestein e dalle decisioni della Corte di Giustizia Europea. È questo il commento di Angelo Vaccarezza capogruppo di Forza Italia in regione Liguria. Tante le questioni demaniali che interessano il comparto una su tutta la Bolkestein serve subito una legge europea spiega Vaccarezza che riconosca il valore delle imprese delle aziende balneari con un periodo transitorio di almeno 30 anni. 300.000 persone tra occupati e indotto che devono avere garanzie anche dal governo. Il 28 settembre a Roma è in programma una grande manifestazione che convolgerà anche i lavoratori del comparto balneare della nostra regione. Giro di vite all'evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico in Val di Magra per dare maggiore operatività alla Guardia di Finanza di Sarzana che negli ultimi anni ha portato a segno numerosi indagini. Dal 1 agosto la tenenza sarzanese è stata elevata al rango di compagnia. Vediamo il servizio. Promozione per la Guardia di Finanza di Sarzana che è stata elevata al rango di compagnia. un riconoscimento per le fiamme gialle della Val di Magra impegnate negli ultimi anni su diversi ambiti con decine di indagini portate a segno. Dal 1 agosto 2016 la tenenza della Guardia di Finanza di Sarzana è stata infatti elevata al rango di compagnia così come disposto dalla riorganizzazione effettuata dal Comando Generale del Corpo. L'elevazione al rango di compagnia da parte dei vertici è scaturita dalle diverse esigenze operative del Corpo dovute alla sempre più importante realtà economica e finanziaria della circoscrizione di servizio delle fiamme gialle sarzanesi dai considereboli risultati ottenuti negli ultimi anni e non da ultimo dalla necessità di adeguati rapporti istituzionali sul territorio. La nuova compagnia di Sarzana che ha assorbito nella propria circoscrizione i servizi per i comuni di Arco, Lavezzano, Ligure e Follo è articolata su una squadra comando una sezione operativa volante e un nucleo mobile ed è alle dirette dipendenze del Comando Provinciale. Una manovra che si inquadra in un rafforzamento dei presidi della Guardia di Finanza nella provincia spezzina con l'obiettivo di portare a segno un giro di vite in tema di lotta all'evasione fiscale e agli sprechi di denaro pubblico. La compagnia di Sarzana è comandata dal tenente Salvatore D'Angelo al comando dall'8 luglio dello scorso anno. Furti in casa ad estate secondo i dati nazionali sarebbero in calo ma visto che ci avviciniamo al periodo di ferragosto ecco le contromisure possibili proposte da CNA a installazione e impianti. L'antifurto tra l'altro si può ritrarre dalle tasse. Vediamo il servizio. Furti in casa è in aumento il numero degli italiani previdenti. In Italia sono 3 su 4 le famiglie che hanno installato un sistema antifurto anche una semplice porta blindata ma molti fanno ancora poco o attendono il primo furto per adottare contromisure. Eppure la prevenzione paga. L'intrusione nelle abitazioni dopo una decennale galoppata ha registrato finalmente una frenata. Poca cosa rispetto a un reato che genera comunque enorme allarme sociale. Significativa però l'inversione di tendenza frutto non solo di una maggiore prevenzione pubblica quanto affermano a CNA installazione e impianti di un cambiamento di mentalità. Al fai da te al vicino attento o alla providenza si vanno sostituendo i sistemi di protezione. I furti negli appartamenti denunciati sono aumentati del 94% tra il 2005 e il 2015 ma secondo il Viminale la crescita si sarebbe arrestata. Tra gennaio e aprile 2016 le denunce di furti in appartamento sono calate del 15,9% rispetto al 2015. Questo calo potrebbe essere determinato anche da un senso di frustrazione dei cittadini. Solo il 2,7% dei criminali viene assicurato alla giustizia. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha di recente riavviato il dibattito sul loro inaspimento. Il calo delle denunce cammina di pari passo con l'aumento dei sistemi di protezione nelle abitazioni private. Il Censis ha calcolato che nel 2015 sono stati svaliggiati 689 appartamenti al giorno cioè 29 all'ora 1 ogni 2 minuti. Secondo CNA Installazione Impianti prima di tutto è necessario analizzare le necessità dell'appartamento da difendere. Ne va anche del prezzo che può variare da poche centinaia fino a diverse migliaia di euro. Il consiglio dei tecnici è quello di rivolgersi sempre a personale specializzato e utilizzare materiale certificato per evitare una spesa che possa rivelarsi superflua alla prima prova anticrimine e una brutta sorpresa al ritorno dalle vacanze. A Cama Ambiente informa che il servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche si svolgerà nelle seguenti date sabato 13 agosto al Canaletto in Viale San Bartolomeo domenica 14 agosto alla Chiappa in Via Benedicenti. A partire dalle 7.30 fino alle 12 i cittadini potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili sedie, divani, reti, materassi, tavoli sia televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor dei pc e stampanti. Il caldo dell'estate invita di certo a trascorrere le serate all'aperto qual'occasione migliore allora per dare uno sguardo al cielo stellato magari da luoghi in cui il cielo è ancora buio cercando qualche stella cadente che realizza i nostri desideri. Ritornano come ogni anno le lacrime di San Lorenzo le stelle cadenti che la tradizione popolare ha datato al 10 agosto o per essere astronomicamente precisi le meteore dello sciame delle Perseidi. Quest'anno il momento in cui si possono vedere più stelle cadenti sarà nella notte tra l'11 e il 12 agosto forse prima dell'alba del 12. L'osservazione potrebbe essere un po' disturbata dalla presenza di un quarto di luna crescente che tuttavia tramonterà prima dell'una della notte del 12 agosto dalla parte opposta del cielo in cui sembrano provenire le meteore. restiamo sempre su la notte di San Lorenzo per il patrono Manarola si veste a festa il Borgo delle Cinque Terre domani festeggia tra luci e banchetti il santo protettore offrendo giochi e animazioni per i più piccoli già dal pomeriggio nella serata dalle 21 dopo la processione tradizionale seguirà alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico. Domani mercoledì 10 agosto alle 21 sarà possibile partecipare al Museo LIA a un percorso guidato dedicato alla notte delle stelle la visita guidata avrà inizio alle 21 e sarà gratuita fornendo un'occasione speciale per osservare le opere medievali e rinascimentali del Museo LIA seguendo il filo delle costellazioni della concezione della volta celeste nei secoli e guardando alla raffigurazione del santo che a questo giorno così speciale ha dato il suo nome. Tutto è pronto per la festa del milite volontario Borghetto Vara organizzata a questo fine settimana dalla locale Croce Verde Buona Cucina Ballo Liscio e la possibilità di aiutare concretamente questo ente di soccorso per noi il servizio di laurevani con le immagini di Sergio Diofili. La Croce Verde di Borghetto Vara quest'anno compie 51 anni e è una delle pubbliche assistenze più longeve della nostra provincia e chiude tra l'altro anche un anno denso di attività. Certo senz'altro abbiamo lavorato parecchio grazie all'impegno dei nostri militi che ringrazio sempre per l'impegno che danno. Noi l'anno scorso do qualche numero abbiamo fatto 50.000 km con i nostri mezzi abbiamo tre ambulanze attrezzate per il soccorso di urgenza e un'automedica e abbiamo fatto 182 emergenze 300 dialisi 150 viaggi programmati e 90 viaggi privati perché siamo 30 militi però disponibili siamo sempre 15 16 diciamo Quindi siete sempre a caccia anche di nuove leve Siamo sempre a caccia di nuove leve e disperatamente io tutti quelli che incontro dico ma vieni con me un pochino due ore tre ore la settimana che chiediamo solo quello noi non ci bastano quattro ore la settimana è un impegno minimo diciamo e facciamo del bene veramente Ecco questo fine settimana 13 e 14 agosto la festa del Milite Volontario un momento irrinunciabile anche per la Croce Verde ma poi per Borghetto Vare e tutta la Valdivara Certo sì il 13 e il 14 agosto ci sarà la tradizionale festa del Milite Volontario e tutti gli anni insomma i nostri cuochi ci preparano un sacco di cose buone tradizionali ravioli fatti a mano lasagne polenta immancabile l'asado e la porchetta poi anche prodotti del territorio salsicce di pignone prodotti di pasticceria che fa il nostro pasticcere lì sul posto quindi insomma sono tutte cose diciamo che ormai rendono questa festa una delle diciamo feste più grandi che ci sono in circolazione abbiamo circa mille presenze tutti gli anni quindi questo ci fa piacere anche perché insomma la festa è anche un modo per dare un contributo alla nostra associazione importante partecipare proprio perché ci sono degli obiettivi in modo particolare per riattrezzare un'ambulanza sì dobbiamo riattrezzare quasi completamente la cella interna dell'ambulanza la 4x4 che abbiamo noi che è indispensabile nella stagione invernale ci sono diversi lavori da fare e occorrono almeno 10.000 euro il lungo weekend di ferragosto si avvicina per chi resta alla spezia ed è in cerca di idee il museo archeologico di Luni e la villa romana del Varignano apriranno le porte anche lunedì 15 agosto con un'apertura appunto straordinaria si tratta di un'iniziativa del MIBACT ma vediamo nel servizio di Laurevani maggiori dettagli anche il museo archeologico nazionale di Luni e la villa romana del Varignano aderiscono all'iniziativa del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le aperture straordinarie dei musei a ferragosto oltre a loro in Liguria si contano anche il museo archeologico di Chiavari Palazzo Reale a Genova e il museo preistorico dei Balzi Rossi a Ventimiglia a Luni le visite saranno possibili dalle ore 8.30 alle ore 19.30 l'accesso alla villa romana situata nel territorio di Porto Venere è previsto invece dalle ore 14 alle ore 19 quella di ferragosto sarà una giornata di festa della cultura con i musei statali aperti tutto il giorno un'altra importante occasione per cittadini famiglie e turisti di conoscere e visitare quello straordinario museo diffuso che è l'Italia ha detto il ministro Dario Franceschini un'apertura doppiamente significativa visto che quest'anno la festività ricorre di lunedì consueto giorno di chiusura per gran parte dei luoghi della cultura nazionale l'elenco completo dei musei aperti gli orari di apertura e il costo dei biglietti sono consultabili sul sito beniculturali.it l'offerta è ricca e coinvolge tutti i principali luoghi della cultura dal Colosseo a Pompei agli uffizi ma anche luoghi di storia e di cultura meno noti ma non per questo meno belli come quelli presenti nella nostra provincia ancora un appuntamento per il mercoledì di Fezzano in musica in programma per il 10 agosto alle 21.30 nella suggestiva cornice del Borgo di Fezzano il concerto dei Trouble Notes considerati pionieri di un nuovo genere di musica Gypsy Fusion si spostano continuamente in tutto il mondo con i loro strumenti proponendo anche melodie che virano dal tango argentino al flamenco spagnolo in un mix di sonorità e musica balcanica la rassegna è organizzata dal comune di Portovenere in collaborazione con l'Osteria Baccus della Spezia e animerà il Borgo di Fezzano tutti i mercoledì fino al 7 settembre con la musica live giovedì 11 agosto alle ore 19 al museo del Castello San Giorgio inaugura la mostra di Andrea Benetti omaggio alla pittura rupestre a cura di Marzia Ratti in esposizione fino al 7 settembre a seguire dimostrazione interattiva di preparazione di colori naturali e di pittura preistorica a cura di Edoardo Ratti di Archeolink Verrà offerta degustazione di prodotti tipici della lunigiana e l'ingresso è libero Jets on Hair la manifestazione dedicata alla musica jazz e più in generale alla cultura gestistica si svolgerà dall'11 agosto a Chiavari in piazza Fenice le quattro serate della rassegna musicale inaugureranno questo giovedì sera con la proiezione del film documentario Enrico Rava note necessarie e proseguirà venerdì con il primo concerto di Francesca Tandoi e Ropan Trio sarà questa l'occasione per gettare anche le basi di un jazz club di Chiavari nel corso dei concerti fatti il pubblico troverà una scheda con le linee generali del progetto e la possibilità di lasciare i propri recapiti ancora due occasioni per partecipare al festival Paganiniano con le date di domani a Bolano e di venerdì a Ricco del Golfo gran finale domenica 14 agosto a Carro terra d'origine della famiglia del Gran Virtuoso con un convegno e con due artisti internazionali ma sentiamo meglio nel servizio di Laurevani si avvia alla conclusione la quindicesima edizione del festival Paganiniano di Carro realizzata con il contributo della fondazione Carispezia due concerti a Bolano e a Ricco del Golfo saranno il preludio al grande concerto di chiusura previsto per domenica a Carro sede dell'unica dimora Paganiniana ancora esistente domani mercoledì 10 agosto nell'oratorio di Bolano il violinista Alberto Bologni e il pianista Giuseppe Bruno daranno vita a brani celebri di Franz Liszt e Nicolò Paganini il programma propone composizioni importanti quanto di raro ascolto venerdì 12 agosto invece a Ricco del Golfo andrà in scena il recital del vincitore del concorso pianistico svoltosi lo scorso luglio a Baselga di Pinè Nicola Parisi eseguirà musiche di Scriabin Chopin Bach e Litz in memoria di Roberto Melini musicista originario di San Benedetto tragicamente scomparso sulle montagne di Trento nel 2013 la quindicesima edizione del festival Paganiniano di Carro vedrà infine il suo epilogo il 14 agosto alle ore 18 nella casa Nasca Carro ancora una conversazione Paganiniana sull'Europa e la musica un dialogo senza confini a cura di Cinzia Laurelli esperta di politica e progettazione culturale nella Commissione Europea alle 21 in piazza della Chiesa le note del concerto di chiusura saranno suonate dal violoncello di Vittorio Ceccanti e dal pianoforte di Marco Vincenzi i due musicisti di fama internazionale daranno degna conclusione a questa manifestazione che ancora una volta è riuscita a ricreare un'atmosfera culturalmente suggestiva nel contesto delle bellezze della Val di Vara per raggiungere anche questi concerti sarà disponibile una navetta gratuita dalla Spezia nel tardo pomeriggio giovedì 11 agosto il 25esimo Festival Massimo Amphitheatrof raccoglierà presso la chiesa di Sant'Adria di Levanto la Leader Band serata totalmente dedicata ai leader composizione per voce solista e pianoforte il concerto vedrà protagonisti il mezzo soprano Carolina Krogius e il pianista Ettore Prandi la parola lead è traducibile in tedesco come canzone nella storia musicale tedesca i leader rappresentano una componente essenziale e nell'opera di Schubert e Schumann assumono valore di alto significato tecnico ed estetico il programma di Carolina Krogius ed Ettore Prandi includerà i grandi leader di Schubert Briten e Sibelius questa mattina sono convolati a nozze a Palazzo Civico l'assessore alla sostenibilità ambientale Laura Ruocco e il compagno di una vita Bruno Mencarelli la cerimonia tenuta dal sindaco della Spezia Massimo Federici si è svolta alla presenza del figlio della coppia Pietro Elia a loro giungano le felicitazioni anche da parte nostra da parte di Teleriguria Sud alla presenza del direttore sportivo Pietro Fusco nella sala polifunzionale del Ferdegrini sono stati presentati quattro dei nuovi volti dello Spezia di mister Di Carlo si tratta di Jacopo Galli Giuseppe Mastino Jacopo Pagnini e Alessandro Pio vediamo un estratto della conferenza stampa Buonasera a tutti Innanzitutto grazie a tutti davanti al direttore che sia una bella per amore c'è una bella l'opportunità che personalmente mi ha dato sia nel mio io sono un ragazzo che arriva dal basso con tante ambizioni e tanta voglia prendersi in gioco in una società importante con lo Spezia Buonasera a tutti sono Alessandro Pio e ringrazio anche io il direttore per le parole di Espresso e di tutto e devo dire che sono molto contento di essere qui quando mi è arrivata la proposta di Spezia mi ci ho pensato un po' due volte perché è una piazza importante e sono qui posso piacere e sono molto contento di essere qui mi sono noto subito bene e i ragazzi mi hanno avuto proprio benissimo e siamo un grande gruppo e tutti noi sono contenti ecco grande sciogria tutto in grado al crotone salve a tutti sono gli appogalli e vengo da da crotone sono di Carrara ma vengo da crotone l'anno scorso l'anno scorso non ho avuto tanto spazio e quando è arrivata la proposta dello Spezia non ci ho pensato due volte i ragazzi ci sono trovati assoluto bene gruppo gruppo vero gruppo unito che è una cosa fondamentale come la fine cercherò di dare la mano il più possibile al gruppo al mister a tutti comunque grazie anche al direttore per la fiducia e il buon pomeriggio a tutti sono Jacopo Agnino e vengo da Pistoia l'anno scorso ho fatto la serie di Sampo G-Wons quindi vengo dal passo come verde e sono un ragazzo più giovane del gruppo del 697 e qua a Spezia è una comunità fantastica e grazie anche per le parole che hai espresso verso i miei confronti e per l'opportunità che mi ha dato per essere qua sono qua per imparare perché essendo un giovane e darò il basso per dare una mano al gruppo e giungiamo ora in conclusione di telegiornale con le previsioni del tempo per domani mercoledì 10 agosto il passaggio di una perturbazione determina condizioni di instabilità con rovesci e temporali sparsi sulla costa sia al mattino che al pomeriggio il tempo sarà variabile con possibili rovesci l'umidità sarà su valori medi i venti al mattino saranno deboli da est e sud est levante temporanea attenuazione nelle ore centrali e nuova rotazione da nord in serata il mare sarà generalmente mosso le temperature oscilleranno da una minima di 21 gradi ad una massima di 28 questa è la nostra ultima notizia io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di serata arrivederci a Grazie per la visione!